Attimi di tensione al centro di accoglienza di Pian del Lago, dove si è registrato un tentativo di fuga da parte di alcuni ospiti della struttura. Nel cercare di fuggire, uno dei migranti ha scavalcato la recinzione ed è salito sulla sommità, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto al suolo da circa 6 metri. L'uomo è stato soccorso dai poliziotti in servizio nella struttura ed è stato accompagnato in ospedale. Questa mattina era stato disposto il trasferimento del migrante al reparto maxillo facciale dell'ospedale San Marco di Catania. Durante il tragitto, però, l'uomo ha aperto il portello dell'ambulanza e si è lanciato da un viadotto alto 25 metri, sopravvivendo alla caduta nonostante i traumi riportati. Tornando al tentativo di fuga, c'è da dire che altri ospiti del centro avevano tentato di scappare, ma sono stati bloccati e ricondotti all'interno. Le relazioni degli agenti saranno ora trasmesse in procura per le valutazioni del caso. Gli episodi sono stati anche documentati dal sistema di videosorveglianza del centro di Pian del Lago. Sul web erano state diffuse notizie relative a pestaggi da parte delle forze dell'ordine, ma fondi della questura hanno smentito tale circostanza. Grazie. Grazie.